C'è stata una vera e propria impennata di richieste di tamponi dal 15 ottobre, data in cui è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass anche sui luoghi di lavoro. E così le farmacie, come la nostra emittente aveva anticipato, sono corsi ai ripari. In particolare le comunali di Arezzo hanno triplicato gli sportelli per i tamponi rapidi. È stato infatti attivato alla farmacia Giotto e alla farmacia Mecenate il servizio per rispondere alle richieste da parte dei cittadini di sottoporsi al test, andando così ad integrare la postazione già operativa alla farmacia Campo di Marte. La scelta di attivare due nuovi sportelli, commenta Francesco Francini, presidente delle farmacie comunali di Arezzo, è una risposta all'aumento delle richieste di tamponi rapidi conseguente soprattutto all'obbligatorietà del Green Pass, andando a prevedere un servizio che copre l'intera settimana e che testimonia la nostra prontezza verso i bisogni del territorio. Presso la farmacia Giotto è stato allestito un gazebo frontale all'ingresso della stessa farmacia lungo Viale Giotto, mentre nei pressi della farmacia Mecenate è stato allestito un apposito spazio interno con accesso autonomo per evitare il contatto con la normale utenza della farmacia.